...con i limiti al corso della federazione delle strade. Bene, dunque, dato il titolo che riguarda un giudizio, diciamo, su un anno, io direi che inizialmente distingo due aspetti. Chiamiamo l'aspetto psicologico da quello di sostanza. Che cosa vuol dire l'aspetto psicologico? Noi, lasciatevi dire un po' banalmente, siamo come una squadra che a un certo momento rompa i crisi di difficoltà e ritiene giustamente, forse, che riuscendo a dotarsi di un grande camione o fortunatamente coinvolto, si possa contestualmente fare qualcosa. Vincere il campionato e fare anche il bel gioco. Per cui uno è contento e dice, talpato, vincere il campionato e facciamo anche il bel gioco. Dopo un anno che cosa possiamo dire? Che non sappiamo se vincerebbe il campionato o no, possiamo ancora giocarci, non dipende molto da noi, il bel gioco, per ora, non si vede. In che non è grave l'attenzione, perché se uno vince il campionato in un bel gioco cosa dire se ne svegliamo, intanto abbiamo vinto il campionato. Quindi, in questo senso, l'aspetto psicologico è un aspetto ancora in gioco su cui appunto bisogna riflettere. Però certamente c'è questo aspetto, il bel gioco apparentemente non si vede. Allora, la domanda è, noi siamo ancora in grado di vincere il campionato? Possiamo? Io penso che sì, tutto sommato è passato per un anno, dipende ovviamente da quello che facciamo. E dipende anche come, in qualche maniera, riusciamo a affrontare dei no di mea. Ora, cosa succede? La giunta in questo momento, per certi aspetti, dobbiamo dire, non è neanche completa, perché si parla di là del problema dello statuto di completamento. Ci sono delle deleghe che si do parte tutto e su cui forse non si riscontrano da fare, per andare a lavorare. La partecipazione, la risociazione dei quartieri, c'è tutta una serie di aspetti che vanno evidentemente ancora affrontati e che sono relevanti. D'altra parte sono stati affidati cariche e consulente, in cui magari non si riscontrano le auto. Faccio un esempio, ma non per fare una critica. A Piagli è stato affidato un certo compito di immagine, non ho visto poi un risultato, ma non per critica, ma per dire che siamo ancora in una fase di attivazione che evidentemente richiede il tempo. Quello che però vediamo già in questo momento è che c'è una difficoltà a avere convergenza su grandi temi con dibattiti concreti che coinvolgono tutta la città e tutti gli aspetti che sono in qualche maniera legati a noi. Per esempio, il legame con la provincia a me non è chiaro se è un legame di buoni rapporti, di buon vicinato, interazione costruttiva, definizione approfondita dei problemi, ragionamenti approfonditi sulla struttura dell'area alta e sui problemi che adesso sono collegati. Questo non è chiaro. In effetti non posso dire perché se lo vuole è negativo. dico che non è chiaro quanto siano approfonditi. A livello della regione ci sono rapporti e problemi altrettanto importanti. Faccio un esempio. Sento ultimamente questa definizione molto suggestiva del collegamento trasversale Firenze-Venezia, per cui Bologna deve essere in qualche migliore un ponte. Allo stesso tempo però, al di là della suggestione, non vedo cose estremamente concrete, mentre mi è chiarissimo il problema che esistono ancora sui miei amici, i problemi di rapporti con barba, con rimini, interazioni, a livello degli aeroporti, a livello delle fiere. Cioè esiste evidentemente un problema organico all'interno della regione, all'interno della quale Bologna deve definire un proprio ruolo chiaro, vedere in maniera precisa un discorso di prospettiva, al di là di quelli che sono i sogni o non sogni, ma bisogna riuscire a entrare nel concreto su questi aspetti. Anche in questo caso, per ora, non vedo una programmazione a definizione sufficientemente approfondita in una linea abbastanza diretta. D'altra parte, esistono altri aspetti collegati a questo e in particolare, ad esempio, tocchiamo altri due soldati. Un aspetto che è emerso fortissimo in questi giorni, se ne parlate di qui, questo discorso della legalità. Io devo dire, mentre da una parte mi rendo conto perfettamente che parlare di legalità implica anche un grande problema, un grande impatto sulla stampa e la stampa tendenzialmente permette di giornare e di fare le anche silitiche. Due che vanno d'accordo non fanno le grandi notizie. Quindi è evidente che vengono accentuati gli aspetti di contrasto. Ma il problema che ci dobbiamo porre è che noi parliamo a Bologna di legalità in termini di nuovo, in realtà, oggettivamente di contrasto, cioè fra virgolette i buoni che difendono i propri diritti e i cattivi che vogliono aggredirli in qualche maniera o che non vogliono capire, o parliamo invece di legalità in termini di ricerca, di compatibilità e di parità di offerta in maniera tale che si ottenga la legalità perché tutti hanno gli stessi diritti e tutti hanno le stesse opzioni. Quindi il problema di legalità va posto in maniera molto diversa. Allora, se sono i giornali che lo pocono male dobbiamo ottenerlo meglio, ma se la sostanza dei termini del problema è per caso quella di difeso di contrasto, di conflitto, noi dobbiamo essere i gravi in questa città di cambiarlo completamente, cioè cambiare il prospetto all'interno del quale si discutono questi problemi perché solo in questo modo si va a qualcosa di compartecipato e condiviso che non vuol dire che tutti saranno contenti. Probabilmente molti o quasi tutti saranno un po' scontenti, ma abbiamo lavorato per costruire qualcosa, costruire una cultura della legalità che abbracci tutti quanti indistintamente avendo offerto a tutti pari opportunità e pari occasioni. In questo contesto ci sono altri aspetti rilevanti. Credo per esempio che sarebbe interessante e utile vedere e discutere in maniera più approfondita tutta una serie di cose che sono state proposte durante le campagne che do l'hanno. Io non la voglio fare lunga, ma ci sono stati un sacco di documenti dal sindacato, al gruppo Fanti, la schista giovanile, noi associazioni varie, le cosiddette ci sono un sacco di proposte non necessariamente tutte organiche e definite, ma tutte volte a contribuire a creare un dibattito e una discussione. Allora, se tutte queste cose non riescono ad emergere comitati, a livello sufficientemente dettagliato, perché la discussione pervada l'intera città e veda poi molti tutti, questa operazione comunque non riuscirà in maniera approfondita. Allora, per questo e concludo, cerco di essere sintetico, le associazioni stanno tentando una nuova operazione che non vuole essere semplicemente a rifare quello che abbiamo fatto durante la campagna o tentare strade varie o quello diciamo utopistico in centro. Noi quello che vorremmo fare in modo che ci siamo riuniti in questa sigla a unirsi che credo che già lì per sé sia abbastanza significativa e ci sono 36 associazioni al momento ma speriamo che crescono è quella di offrire e costruire perpetuamente per tutto la parte del mandato una palestra di dibattito e di discussione in cui i vari aspetti vengono a confrontarsi in dettaglio e ci si ragiona sul concreto dei problemi. Ovviamente cercando di avere anche quella che Doffanati chiama in maniera giusta e significativa un'assorbibilità nella rappresentanza o una validazione della rappresentanza che viene non dall'essere né tanti né prepotenti né niente ma che viene da aver approfondito i problemi e avendo cercato di portare all'attenzione di tutti il noccio della sostanza delle problemi. Allora in questi termini credo che l'assorbibilità e la validazione esista ma è fondamentale che ci sia una partecipazione dettagliata e approfondita e lasciatemi dire sufficientemente tecnica perché si entra nel tanto negozio. Noi in questo periodo abbiamo avuto già una serie di cose di questo genere c'è stato un incontro recentemente dal gruppo Fanti era il ricorso di problemi della rappresentazione della struttura della città c'è stato un dibattito sui problemi del metro ci sono dibattiti che continuano anche quello che questa sera va in questa direzione cioè noi dobbiamo riuscire a riportare al centro della città un dibattito che faccia anche emergere delle divergenze di opinione delle differenze ma che tenta a rendere coinvolti in una maniera costruttiva su questo problema altrimenti rischiamo di avere un gruppo magari eccellente magari bravo che potrà anche fare delle cose ma che difficilmente riuscirà ad attuare la cosa per cui tutti durante la campagna elettorale ci siamo mossi e quindi io credo che questo aspetto sia centrale e non bisogna staccarsi di spigio su questo aspetto per questo e concludo davvero noi alla ripresa dell'attività perché ormai andiamo a verso le vacanze è inutile pensare di fare grandi cose in agosto eccetera abbiamo attivato una serie di gruppi di studio di gruppi di lavoro in cui di nuovo non si vuole trovare delle soluzioni particolarmente geniali ma si vuole dare la possibilità di confrontarsi a fondo su certi temi e poi chiamare le istituzioni nel senso gli assessori il sindaco per chi si vuole a confrontarsi con questo ribatto alla fine di questo tragitto ad un certo momento pensiamo anche che sia utile rifare l'assemblea cittadina non tanto per fare una celebrazione la celebrazione non serve perché se si va bene o no lo diranno gli elettori ma per cercare di fare una specie di verifiche in corso nel senso di adeguare eventualmente il motore solo funziona perfettamente Bruno Tonini di Derni Comitato Banco Lusso della Federazione delle Strate e poi Luisa Barbieri dell'Associazione di Badia allora sarà un po' il soggetto qui che si muove il cantiere io mi sento di portare del materiale un po' d'erogeneo perché si passa da livelli politici a livelli particolari diciamo di problemi specifici infatti quello che porto io è un problema specifico direi più un problema sociale che un problema politico faccio parte di Bruxelles che è un comitato via del Fratello via Pietralata e i nostri coordinanti sono coordinanti sociali ci misuriamo sui problemi che vogliamo nella passata amministrazione con Guazzalota non siamo stati in attesa abbiamo portato avanti il problema dello smog nel centro storico e direi che il fatto che abbiano arrivato Sirio sia una nostra conquista eravamo eravamo circa più di 24 comitati anche smog e abbiamo posto questo problema per il centro storico l'abbiamo posto perché ci viviamo nel centro storico non l'abbiamo posto per gli altri l'abbiamo posto per noi per la vivibilità del centro storico oggi il comitato a Bruxelles si sta battendo per un altro problema che ci interessa quello del rumore notturno della vita notturna che va avanti in modo discriminato per tutta la notte questo è un problema che non riguarda naturalmente solo il nostro comitato anche qui abbiamo incontrato altri 14 o 15 comitati infatti Bruxelles partecipa alla federazione delle strade cioè tutte le strade che sono interessate da questo problema ora noi riteniamo questo un esercizio di cittadinanza abbiamo questi diritti abbiamo queste esigenze e le colpiamo avanti molte volte le persone non ci credono come non ci credevano nella precedente giunta non ci credono adesso cercano di capire chi ci spinge chi ci manda chi ci manovra lasciamo le interpretazioni politiche noi diciamo che portiamo avanti in modo organizzato il nostro interesse e questo non è banale non è un interesse banale anche se specifico perché se centinaia e anche migliaia di persone per diverse notte continuamente non riescono a farlo vedere questo è un problema grosso è un problema grosso va bene non è generalizzabile nel senso non è che tutti i bolognesi vivano questa condizione eccetera però per chi va bene vive in queste condizioni sono condizioni pessime per chiedere questo come quando chiedevamo un modale l'ordina nel centro storico adesso un po' di silenzio di notte va bene chiedendo questo veniamo descritti come coloro che vogliono spegnere la città trasformare la città in cimitero andare all'eco nel 2021 va bene come se un po' d'aria e un po' di silenzio creassero diciamo così la crisi del sistema economico bolognese cioè che Bologna si legge su due città va bene com'era la possibilità di arrivare ovunque con la macchina privata e adesso poter fare quello che a che a uno aggrada a qualsiasi ora no della nuova e noi non riteniamo questo se è giusto naturalmente e qui si è parlato di partecipazione noi abbiamo fatto questa partecipazione abbiamo fatto l'incontro del sindaco non so ci siamo delle persone un po' particolari rappresentanti della zona del fratello rappresentanti della piazza di piazza vera si sono incontrati con il sindaco abbiamo portato avanti in modo specifico quali erano le necessità va bene per queste zone abbiamo chiesto interventi specifici per queste zone io parlo per i fratelli perché io no la potresti parlare per tutti i 14 comitari eccetera parlo per i problemi specifici che ci interessano ora a fratello ci sono più di 22 locali che vanno avanti fino alle 3 di nove 22 più in aggiunta più di 10 ideologi quelle cose la vengono anche fino a notte e oltre va bene noi chiedevamo che questa cosa fosse regolamentata era possibile che una mia residenziale bene con di casa primo piano ci fosse questo tipo di attività così protratta bene in questi incontri siamo stati ascoltati soltanto le decisioni sono state del tutto diverse chiedevamo i commenti specifici noi per il fratello di piazza verde e questi sono stati stati provvedimenti per tutta la città cosa che questi sono elementi generali non hanno risolto un problema bene non hanno usato che ne hanno realità e addirittura per quanto riguarda il fratello hanno peggio dato la situazione ci siamo trovati orani più lunghi e situazioni no teose maggiore va bene ora e poi c'è un'altra cosa che non c'è piaciuta in questa tua situazione oltre la conclusione non c'è piaciuto il fatto che noi volevamo un problema di salute pubblica certificata documentata perché cerchiamo sempre di documentarsi e certificare le informazioni che facciamo va bene e abbiamo trovato come interlocutore l'assessore alle politiche commerciali un problema di salute pubblica e tutto al più un problema di politica sociale o ambientali il nostro referente era assessore alle politiche commerciali va bene e che in qualche modo ha posto il problema nel senso del tipo c'è un popolo della notte c'è un popolo del giorno questo popolo della notte e questo popolo del giorno si scontrano sulla occupazione spartizione spartizione dello spazio e del tempo a noi si è sembrata che questa affermazione ripetuta più volte forse è tutto forbiante perché il tempo è lo spazio che questi cosiddetti popoli da cui noi non chiediamo in questo tipo sessologia si stanno spartendo non è altro che spazio e tempo pubblico sono strade orarie non publie cioè spazio e tempo dedicato collettivamente da tempo e regolato da leggi va bene e disposizioni che ne strutturano già l'utilizzo e su questa funzione pubblica di questo spazio pubblico tempo pubblico che noi crediamo si esercita l'autorità e la funzione pubblica dell'amministrazione invece l'amministrazione in questa descrizione di scontro come se fossero due squadre di calcio in cui quelli sono quelli della notte e quelli sono del giorno vediamo chi vince si pone come abito si pone al di fuori va bene senza rappresentare nulla di quella che è la sua autorità e la sua funzione pubblica e noi questo noi vediamo che questo sostanzialmente qui entro adesso nell'ordine di aspetto di tipo politico bene anche se non in termini partiti ma di valenza della funzione politica e amministrativa può avere la gestione comunale va bene l'amministrazione non può forse come anche tra i suoi e parte in caso anche perché chi è eletto questi amministratori è eletto i residenti qui hanno affidato la propria rappresentanza la propria regolazione della propria vita i residenti cittadini hanno affidato a questa amministrazione e succede che queste riunioni di tavoli in cui tutto dovrebbero mediare discutere di tutto e tutto sembra mediable anche il solo delle persone la salute è mediable va bene l'amministrazione pubblica non rappresenta nessuno si lasciano scontrare i partecipanti va bene gli interessi costituiti legittimi va bene delle varie parti commercianti e portano i loro interessi ma gli interessi dei residenti non li rappresenta nessuno siamo noi cittadini ma così a livello di domità disparuti quello dovrebbe essere la funzione pubblica dovrebbe essere i quartieri dovrebbe essere il sindaco che ha la gestione la responsabilità della salute pubblica a rappresentare l'esigenza dei residenti cittadini invece si tirano fuori come degli altri quindi le persone che osservano da fuori cosa succede tra questo conflitto del popolo della notte e il popolo del gioco e noi ci sembra questo va bene un abdicare a un aspetto fondamentale di rappresentanza dei cittadini da parte dell'amministrazione poi c'è un altro aspetto i costi ristrutturare i tempi della notte lo spazio pubblico e i tempi della città significa modificare un sacco di cose pensate pensate a un'industria visto che siamo quattro di sinistra operaista e massimalista quando in una fabbrica si inserisce il ciclo notturno il ciclo continuo l'orario notturno c'è una costi enormi di usura di controllo di spese aggiuntive va bene bene questi costi non vengono calcolati vengono lasciati cadere sui cittadini i terribi in salute anche i termini integrati perché la polizia vedete tutti che se la notte va avanti va bene viene usata la città 24 ore su 24 la mattina è tutto sforzo cioè quindi si si esiterebbero ulteriori cicli di polizia di amministrazione di controllo anche i costi di questa di sculturazione va bene non vengono addossati a contatto e addossati a 15 guadagni vengono lasciati di cadere sulla sua vita in modo che vengano pagati vengono pagati anche da chi da chi li sopporta no l'ultima cosa perché è stata accettata proprio proprio e l'ultima cosa è questa è stato detto Bologna è piena di anziani come dire tra un po' copriremo tutti no non si mettono anche copriremo tutti quindi attenzione bene piena di anziani vabbè diventiamo regola democratica se siamo di anziani dovremmo vivere meglio organizzarsi e vivere meglio naturalmente è importante che ci siano anche i giovani è importante che ci siano anche i giovani però non si può non si può solo chiamare i giovani con la politica che a Bologna venire perché a Bologna è possibile se è un eventimento fisico chiamiamo i giovani all'impegno anche per il loro futuro facendo di Bologna una prospettiva per la loro vita che sia un'etapa fondamentale per l'università ma anche i migrati che sia un'etapa fondamentale per la loro vita non una vacanza finché hanno i soldi e poi finiscono e finiscono e aumentiamo gli ospiti grazie 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 a Davide Fermani che lo vedo a Gianvino Nardi che sono presente nel nostro incontro Luisa Barbieri dell'associazione Nadi e poi Pier Stefani dell'Asbo che è un'associazione per il volontariato certo servizio per il volontariato grazie per l'ospitalità io rappresento l'associazione medica nadire sono responsabile delle attività scientifiche noi ci occupiamo dei disturbi di relazione il nostro programma nasce e si sviluppa sul territorio allargato sul territorio vi domanderete come è una situazione medica che si occupa espressamente di disagi legati al contesto sociale psicologico quale il nostro cioè quello nel quale viviamo si è interessati e partecipi con il grande entusiasmo della rete politica e sociale come questo ecco il nostro inserimento intersociale è parte integrante del programma medico-psicologico che proponiamo attuale equilibrare e a riempire un vuoto psichico che caratterizza i nostri pazienti un anno un anno fa noi come tante altre associazioni abbiamo calorosamente sostenuto la candidatura a sindaco di Sergio Cofferati ci abbiamo creduto tantissimo come credo tutti i quattro noi in sintonia anche con medico-professisti ed evoluzionisti che ci caratterizzano in realtà associativa come i medici e a livello biologico e malgrado le difficoltà che in questo anno comunque sono risorte e che non possiamo nascondere però direi alle quali non possiamo nemmeno dare troppa forza e le evidenze che sottolineo manipolazioni mediatiche orientate a sviluppare un'amministrazione inquadrata nel centro-sinistra noi vorremmo continuare a prenderci e questo lo sottolineere non possiamo permetterci di diventare degli strumenti di manipolazione di una fraziosa quanto inadeguata informazione a livello nazionale questa è secondo me la cosa più grave in assoluto che sta accadendo perché a livello nazionale ci stanno mi permetto di usare questo termine che è strumentalizzando e questo secondo me è greffissimo e dipende da noi di evitare e contrastare la strumentalizzazione noi siamo ancora gli stessi cittadini e le stesse associazioni che hanno sostenuto l'attuale amministrazione conseguentemente l'apertura o il tentativo di aprire un canale di comunicazione che sia costitutivo moderato organizzato con le istituzioni costituendoci in una rete orizzontale è un progetto che è abbracciato caldamente siamo pure certi anche della volontà delle istituzioni ad accogliere la nostra collaborazione se ci poggiamo nella maniera alla nostra vista adeguata ecco non sappiamo se si sia creata una sorta di tacco comunicativo e perché si sia creata non sappiamo che cosa effettivamente stia alla base del disagio che tutti noi percepiamo quindi prima di agguerirci di attaccare soprattutto abbiamo già capito che non è agguerirci l'attaccare non porta mai tutti sarebbe bene valutare e soppesare le cause del disagio che noi percepiamo il sindaco lo ricorderete tutti ci disse che ci avrebbe mostrato senza regole gli scheletri dell'armadio che la vecchia amministrazione gli aveva passato ecco noi forse abbiamo bisogno di vederli questi scheletri forse per comprendere per condividere e magari per dargli anche una mano insomma se lui per il segno dentro l'amministrazione se la nostra spinta ha perso io penso che sarà molto più facile riaprire aprire il canale di comunicazione che adesso a mio avviso a tappettino che insomma ci crea il disagio quindi noi offriamo tutta la nostra disponibilità all'ascolto alla comprensione alla partecipazione in virtù di un credo che non vogliamo mollare e che oggi come oggi assume una valenza a livello nazionale quindi ci basta lo che è dell'amministrazione la disponibilità nostra è totale se davvero vogliamo salvaguardare la nostra città ma non solo la nostra città già detto ovviamente ripetisco anche in previsione delle politiche del 2006 che sono qua all'anno non sono sui vicini noi possiamo offrire la nostra competenza che dalla strutturazione della sanità supportata da un approccio multidisciplinare altrimenti sperimentato negli anni a livello territoriale si integra con le problematiche legate all'interculturalità ai disagi giovanili supportati come dicevo prima da un contesto sociale profondamente disturbato agli interessati con il sud del mondo in particolare con i comuni dove noi lavoriamo con il sud del mondo generale il tentativo di rilanciare il fatto tra istituzioni e cittadini nel contesto di un clima di solidarietà di giustizia di libertà sostenuto come ovvero uno scambio costante che permette a tutti noi di sentirci protetti e stimolati allo stesso tempo non so se possiamo chiamare la sfida ma sicuramente è un progetto indispensabile al fine di dimostrare ciò che la base rappresentata da tutti noi è in grado di fare e soprattutto che cosa vuole davvero realizzare non possiamo permettere a nessuno di dimostrare il contrario sia che questo nessuno si avvalga di metodiche strumentali strumentalizzate sia che si avvalga di strapotere espresso come stiamo vivendo in questa fase storica da un'ultima e a dimostrazione di quanto ho cercato di esprimersi l'ora vorrei fare riferimento ad un'esperienza che stiamo portando stiamo facendo un'altra che stanno in essere di quanto la base abbia voglia di proporsi animati nel desiderio di collaborare di interagire in maniera affattiva esempio appunto è la rete che stiamo costruendo in previsione di due eventi che proveremo al 1 ottobre nel contesto della barattura della pace organizzata dal tavolo della pace della provincia una rete che è bastato dare là a tutt'oggi comprende più di cento realtà associative ci siamo noi c'è Neata c'è Cesta Sarco Iris la Eni Cips poi la banca del tempo insomma un centinaio di associazioni hanno già avuto questo perché c'è la voglia di dimostrare che siamo capaci di lavorare insieme io credo che solo attraverso la dimostrazione attraverso la dimostrazione possiamo davvero era stato detto anche prima la cosa della manifettura della banca possiamo dare possiamo dare in line possiamo aprire i canali di comunicazione con l'amministrazione insomma e comunque dimostrare a livello nazionale che il centro-sinistra funziona perché la base è questa punto finito grazie ci sono altri quattro interventi quindi meno male lavorano a farcela adesso tocca a Piero a Stefani e poi come dicevo prima è del centro servizi del volontariato della provincia di Bologna e poi Sandro Più dell'associazione Sandro e Mami buonasera a tutti grazie intanto mi chiamo Piero Stefani non Pietro Stefani non sono la citante si può mai dire si sono presidente del Diasmo che è l'associazione dello sviluppo del volontariato alla quale è stata assegnata di questa associazione che del sviluppo vanno a parte varie associazioni secondo livello dalla Ambas Lavis alla Caritas a Mosanghi Solidarietà a Cansella comunque eccetera per il pedimentico non dico e per lunghezza comunque e a questo è stato assegnato il centro dei servizi del volontariato dal 2003 dopo un periodo di grande conflitto per l'eliminazione del precedente centro servizi del senso però desidero anche presentarmi come volontario ma non sono volontario e come volontario rappresento Cansella che è una situazione che lavora dal 1989 nel campo dell'immigrazione e sono parlofina della rete Carbazzi per licenza fissa di moda e questo ci tenevo tanto per dare un quadro della mia partenza e in 5 minuti cercherò di darvi un'informazione ma una situazione e spero anche un messaggio e un quadro di riferimento un anno fa un anno fa uscivamo appunto come dicevo da una grande conflittualità però il volontariato riprendeva vigore riuscito ad ottenere dei fondi che erano rimasti fermi per i conflitti precedenti dava forza a una progettualità per l'esercizio di volontariato ben 69 progetti per 1.574.000 euro che hanno trovato conclusione il 31 maggio progetti che partono da un'analisi molto attenta del territorio dei bisogni del territorio vanno verso le fasce di un po' di proprio coloro che sono i più numerabili e i più immaginanti e bene mi garantisco progetti dai quali si potrebbe partire proprio anche sui temi che riguardano la consulta per la notte di esclusione sociale di cui faccio parte è stata per prima ricevuta dal sindaco dopo un anno di ascolto dei linee programmati che ne abbiamo io le ho qui sotto ogni pagina contiene almeno 3 o 4 volte riferimento al coinvolgimento alla partecipazione alla cittadinanza al volontariato all'associazione di bene inoltre noi abbiamo offerto delle risorse per poterle restaurare e dare una casa stabile al volontariato risorse che in comitato in questione per i fondi di volontariato ci concedeva di fare un anno dopo un anno dopo il quadro è questo la legge 266 91 viene messa in discussione che non troverà attuazione in questa legge d'altura che cosa fa il governo estrae estrapola naturalmente l'articolo 15 che è l'articolo che decine i fondi che devono andare al volontariato per un 15 dico delle fondazioni bancarie e cerca di inserirlo nel decreto legge sulla competività fortunatamente sta ricevendo i continui rimanti ma riteniamo che in settimana probabilmente verrà passata che cosa succede ancora succede ancora che la consulta della rotta di esclusione sociale indica delle linee progettuali sull'indigrazione e sul discorso del ferrotero il sindaco accetta o il torto a collo di riceve invece si dice non è cosa che mi riguarda è questione è questione di sicurezza è affare mio dunque probabilmente cosa succede la fondazione maggiore della nostra città cita il formato di gestione per i fondi del volontariato la presidenza del consiglio la presidenza della legione e dice la legge per i contrari per altri costituzionali la legge sulle fondazioni bancarie dicono che i soldi sono nostri ce li dobbiamo gestire noi come ci pare è incostituzionale questa cosa comporta che il coge sospende la presentazione sociale per il 2005 e il 2006 c'è un milione di euro che erano stati destinati per i progetti sociali fatti io con le associazioni quelli sono fermi auguriamoci e questo si ristabilisca il danaro che noi abbiamo accantonato per istiturare la sede da una sede stabile al volontariato niente la passata amministrazione aveva detto ok 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 aveva risposto un'interna zona 252 euro in più ma 250 mila euro non abbiamo ancora risposto perché adesso passa tutto al corpiente e il vice sindaco dice ma perché non andate a Castel Debole dove c'è la carina questo è il quadro del fenomeno ecco allora niente di negativo fa parte del vivere normale purtroppo sono già allora una cosa tutto questo che sta avvenendo non dico l'indifferenza non so forse nella non conoscenza forse ci sono tanti altri modi appunto per unirsi però attenzione mi fa piacere sapere che ci siano 100 associazioni che si uniscono altre 30 che vanno unirsi però effettivamente bisognerebbe anche l'associazionismo e il volontariato se vuoi veramente partecipare accetti anche di compiere dei piatti antipatici incomincia a essere un po' più formati si giuna la rappresentanza la legge regionale per il volontariato stabilisce che ci sia un osservatorio del volontariato all'interno della potenza regionale per il terzo settore se queste cose cadono nel silenzio se cadono nel silenzio che solo un articolo sul giornale che dice tutto questo non è sufficiente la Bologna appena la presenza del Consiglio la presenza della Camera recente ne sono partiti pochi 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 stranamente sono partiti molto di più dalle altre regioni dell'Italia la Bologna no e allora vi domando se anche la partecipazione qualche volta forse quando si dice dalle nostre parti che per fatto forse ci vogliono durire e quindi forse non è tutto solo da una parte è una questione anche di conoscenza di comunicazione o altro noi abbiamo comunicato tutto ciò alla quinta commissione del comune ma qui si dice che quella quinta commissione del comune non viene presiduta dall'assessore e quindi non viene ascoltata a questo punto io non riesco più a capire dove dove deve andare questa comunicazione con tutto ciò per dare un messaggio positivo io credo ed è stato detto è stato riprimito all'inizio e si dice anche qui cento associazioni unirsi come trenta ecco il fare rete è stranamente importante il fare rete può dire confrontarsi il fare rete può dire progettare insieme con fatica ma il fare rete può dire anche analizzare con molta serietà il territorio e uscire con dei progetti forti io credo noi crediamo sinceramente che se questi progetti forti escono non possono essere ascoltati per essere progetti forti devono essere progetti come diceva anche i rappresentanti di Mosaico progetti che abbiano una valenza tecnica vi faccio un esempio all'interno dell'organizzazione sociale sulla casa possibile no? si è analizzato veramente il territorio sulla possibilità della mappatura delle case non utilizzate che potrebbero essere utilizzate e si stanno studiando finisco subito e si stanno studiando dei piani di fattibilità bene ecco anche questo perché però l'assessorato alla casa non ci ascolta e i comuni di Bologna non accetta di fare una mappatura come la stiamo facendo nella provincia ti dividilo di più e un altro di modo di presentare vi porto un esempio o con l'uso del discorso che chi lavora nel sociale deve presentare se stesso l'altro giorno come vedete che a Razzipa e senza che si mora che noi non sapete che a Razzipa è il primo che dovrebbe essere spazzato via perché senza che si mora rappresentano una marginità estrema che non veniva considerata e vede che ne ho considerate altre situazioni ebbene abbiamo presentato quello che è un modello un progetto e io credo che se tutti quanti coloro che lavorano nel sociale rappresentano il loro modello rappresentano già quel gruppo di lavoro serio dal quale può partire anche un'indicazione di realizzabilità di quei progetti ecco tutto grazie mi scusso perché mi stanno veramente un po' più fiscale allora se si preparano Lofrio poi Silvia Zerboni e Matteo Pasquali abbiamo finito buonasera io faccio parte di un'associazione che si chiama Subcase Cantella esistiamo da una ventina d'anni più o meno siamo attivi nel quartiere di San Vitale quello che facciamo è gestire uno spazio comunale dato in gestione dal quartiere di San Vitale che abbiamo adibito al centro musicale quindi sale e provi strutture di registrazione la realtà musicale bolognese è molto attiva sin dagli anni 60 i giovani si aggregano molto sulla musica i spazi comunali sono rimasti in circo non ci siamo federati siamo in circo su San Fionica San Vitale San Donato in altri quartieri di Bologna gestiscono questi sedi musicali diamo servizi a presti carterà pensiamo che il fatto che i giovani si reggono attorno alla musica che facciano delle prove che si autoproducano dischi si producano video quant'altro sia utile sia una risorsa organizziamo personalmente non organizziamo alcun festival da tutti i sanni anche un festival di Scandellare il nostro rapporto con la giunta per venire un po' sul canale come tutti come altri come sentite qua intervenire insomma noi inizialmente eravamo entusiasti riferati e venuto nelle sedi delle nostre associazioni complimentandosi per l'attività che buttiamo avanti ovviamente abbiamo fatto presenti i problemi che ci sono stati in altre associazioni per esempio la delibera Foschini quel tentativo comunque di far pagare dei fitti commerciali associazioni che svolgono un'attività che svolgono a questo proposito noi facevamo una manifestazione in piatto ad agosto come altre associazioni sia del territorio settore sia l'Arc e tante altre e fu successo il nostro rapporto con questa giunta intanto premesso il fatto rispetto alla giunta guarderò che non abbiamo mai chiesto niente per l'associazione non abbiamo risposto ai bandi perché non volevamo in qualche modo incrementare la nomea che comunque si è fatto nel senso che i giovani li ascoltava ha dato delle cose a livello giovanile questo non ce lo dimentichiamo il rapporto con la giunta noi per esempio il 25 aprile il sessantesimo della resistenza abbiamo voluto garantire come associazioni giovanili una manifestazione in piazza ad agosto una cosa che mi ha voluto essere sia i giovani che i partigiani abbiamo avuto l'adesione dell'Amp dell'istituto storico della resistenza di Bologna abbiamo fatto suonare i detti di un panc alle bondine a un tenore insomma una cosa diciamo intergenerazionale proprio perché ci interessavano per testimone rispetto a una questione importante come la resistenza siamo andati a cercare un vaccino gratuito e anche un rispizio dal comune per una cosa che deve fare molto importante il 25 aprile tra le altre cose non serve una manifestazione di grossi in piazza c'è stato un po' risposta qui che insomma non abbiamo avuto né finanti eventi né patrici ma soprattutto a parte del comune di Bologna andiamo a parlare con gli emi che ci occupiamo con la cultura facciamo la intervistanda di scandellare e far suonare in due mesi un migliaio di ragazzi che suonano in gruppi di Bologna giovani che si aggregano molto su un po' di pochi punti su cui si aggregano ancora abbiamo fatto una richiesta intervistanda noi guardarò che non abbiamo potuto teologicamente non abbiamo mai voluto chiedere nulla abbiamo chiesto a Milielli 200 ero al gioco solo da a Milielli piccolo punto per il punto appunto perché credevamo che ci fosse questa volontà di dare una mano alla cultura che viene dal basso se si aggrega le associazioni quant'altro anche rispetto a questo siamo rimasti delusi ci sono stati risposti picchi io adesso non voglio politare particolarmente vorrei essere a dire qualcosa la percezione che abbiamo noi io personalmente anche lo suvanile rispetto a questa risposta non mi nascondo che è una grossa delusione quella che noi diciamo i siano disegni attraverso la gente la grossa delusione è un po' per le di generazione insomma anche dire rispetto a questi pareti dobbiamo salvare i giovani da loro stessi insomma non è una cosa che passa così il clima secondo noi non è buono non ci speriamo come abbiamo sperato che il buono diventasse un po' un laboratorio come l'attuale c'è anche stato fatto credito ce lo siamo inventati speravamo sinceramente che questa partecipazione forse una partecipazione reale noi ci aspettiamo ancora una svolta stiamo ancora aspettando però il gruppetto al principio commissionale è un po' è molto negativo vi ringrazio consigliere consigliere comunale e poi dicevo consiglio Zambone e Matteo Pasquani e abbiamo conosciuto voglio voglio ringraziare quelli che sono qui stasera perché il dibattito veniva atteso con grande con grandi interessi spero che non sia andato deluso spero che ci sia anche forse il tempo di fare qualche secca domanda se qualcuno chiedeva di poter fare qualche considerazione alla fine la serata è una delle più calde dell'estate quindi la sala è una delle più calde del palazzo quindi siamo nelle condizioni limiti diciamo quello da cui vorrei partire appunto il rischio che abbiamo corso consapevolmente organizzando una serata in questo modo cioè mettere insieme non interventi politici ma interventi di associazione circa una quindicina e far parlare persone che abitualmente fanno non fanno politica ma fanno un altro lavoro poi pensano pretendo giustamente che con loro con la loro attività possono essere degli interlocutori che li fa politica e il rischio qual era? era quello che diventasse un quadro di lagnanza infinito un pianto greco dove non venisse fuori nessun elemento positivo o di speranza ecco io credo che questo rischio lo abbiamo evitato perché è chiaro che io ho percepito negli interventi di tutti tenuto conto che partivano da premesse e agirono su problemi assolutamente differenti e su posizioni diametralmente ho percepito ancora una notevole fiducia nel fatto che questa città possa essere amministrata bene possa essere condotta con coerenza e che i loro problemi possano essere affrontati io vado brevissimamente ricordando alcune delle cose importanti che sono state anche quelle che hanno entrato un po' che ho fatto anche altri consiglieri soprattutto quelli che negli ultimi tempi hanno costituito con me questo assemblement dell'altra sinistra in cui il discorso delle autonomie che le leggi dello Stato danno al sindaco in termini di nominare gli amministratori dei enti e delle società il caso che ci dava Mario Pantone era quello dell'Ipa Brexit in questo caso noi abbiamo dei rappresentanti che vengono nominati dal sindaco persone che hanno le grandi competenze io credo che dobbiamo avere come consiglieri ma i cittadini devono avere la stessa opportunità di chiedere nel corso di questo mandato amministrativo di queste persone quali sono gli interventi sociali che vengono fatti a favore della cittadina che era sia una società quotata in borsa che era sia una società che fa delle alleanze miliardari con altre società di grande livello è una cosa che dà prestigio alla città se però in città c'è una consapevolezza che i servizi che vengono dati sono servizi di qualità sono servizi sociali in questi mesi il caso di l'abbiamo vista protagonista e indicativo di tante vicende la centrale di via Secantini in subappalto di lavori precari un incidente in subappalto di un lavoratore che ha perso la vita e sono soltanto una parte dell'episodio disgradiatissimo della certosa quando sono stati spebrati i rocchi eccetera quindi sono situazioni nelle quali c'è questa caratteristica questa contipità di atteggiamenti che non sono atteggiamenti che i cittadini possono assolutamente far piacere questo discorso del barco della manifattura è un fatto importante è un polmure verde al centro della città sta in una zona che è la manifattura di dove tra un po' c'è la galleria dove c'è la città dove c'è il d'Ams serve solo un pubblico dove le persone possano stare negli orari anche in cui queste istituzioni culturali sono chiuse non si chiede di sapere si chiede di credere questo progetto di questo medio partito il problema della partecipazione dei cittadini la partecipazione dei cittadini da come è stata rilindicata la maggior persona questa sera è un problema non marginale è un problema assolutamente non da trascurare perché le persone vogliono sempre meno da vedere che bianco e quando abbiamo vinto la campagna elettorale volevamo fare un percorso assieme tutti quanti un percorso affollato numeroso più di persone ma era il bello di questa questa esperienza che mi è dichiarata questo problema della relazione scolastica i giornali tutta volta hanno liquidato come comitati delle pante non solo i comitati delle pante si tratta dei cittadini che chiedono una qualità diversa delle relazioni scolastiche e parallelamente loro e noi abbiamo chiesto una lotta dagli sprechi ogni giorno nelle messe scolastiche se mi può preparare 16.000 pasti si puntano chi e chi di pante di frutta di cibo cucinato abbiamo chiesto di risparmiare questo abbiamo chiesto di riciclare questo cibo perché c'è ancora gente a Bologna in questa nostra città dove ci sono problemi sociali di carovide evidenti che non riescono a mettere inizio pranzo eccetera è un problema sempre più evidente e abbiamo detto un ottimo mezzo progetto il progetto dell'amministrazione che ha fatto sì un passo cercando di recuperare i cibi di scadenza nei supermercati per darli ad associazioni di beneficenza noi diciamo il paese quello cucinato quello che ogni giorno viene montato nelle scuole degli ospedali nelle messe pubbliche dei servizi questo discorso di unirsi è un discorso difficile un discorso difficile perché mettere assieme tante teste tanti sapere tante tendenze è difficile come è difficile un'altra cosa far coesistere nella stessa manifestazione obiettivi e richieste legittime che sembrano opposte ma che non sono tante di chi la notte vuole dormire un buono in caso degli abitanti temperatenti che hanno rappresentato una emergenza sanitaria nella loro strada e non è l'unica strada in queste modifiche d'accordo è un errore di guidare questa cosa in qualche assessore come una necessità uno stato di rassiciazione per cui bisogna necessariamente che ci sia questa contrapposizione tra giovani e vecchi tra coderecce e tristi tra studenti e residenti su questa una sciocchiazza è una sciocchiazza totale perché la città deve essere una città per tutti dell'intervento di Sandro Pugliel ha messo in mente una cosa che è assolutamente importante Bologna è una città nella quale il rock giovanile è un elemento culturale forte di qualità qui ci sono musicali che addirittura sono conosciute più all'estero che in Italia perché qui trovano poche in città trovano poche occasioni di suonare questo discorso della politica giovanile è un discorso che via via le aggiunte che si sono succedute iniziando con i dati primi continuando con la città e andando avanti si è sempre teso a eliminare un elemento che c'era che era quello dei centri giovanili comunali che sono stati suppembrati in minima parte dati in gestione ad associazioni ma di fatto manca una politica per i giovani manca un assessorato su questo fin quando c'è stata una delica specifica a un progetto giuro le cose sono andate in un'altra unità e su questo ci sono la nottele per cui questi progetti sulla cultura giovanile di Bologna siano rimasti fuori dal cartello restivo sono cose che abbiamo quasi tutti i gruppi del consiglio comunale di sinistra detto l'assessore di un'altra unità conoscitiva che ha condiviso che dalla prossima al prossimo anno faremo in un altro modo questo programma di qualità che viene dato per Bologna e Stante è un programma che abbiamo definito bello ma un casino cioè un insieme di prodotti di grande qualità nel quale chi fa cultura e ha in questa città non ha trovato spazio è un errore visto la condizione di ricchezza che c'è allora finisco subito dicendo che tenere assieme questi problemi e risolverli è compito di governare cioè questo problema governare è difficile perché bisogna tenere assieme chi vuol suonare e chi vuol dormire devono esserci regole perché che consentono l'una e l'altra cosa d'accordo negli stessi posti no nelle stesse condizioni no ci saranno condizioni differenti per l'una e per l'altra condizione però il punto è quello che la sintesi la deve fare chi il governo e la presenza di sconciatori che vogliono non far casino che vogliono rivendicare un luogo attivo all'interno della città è un elemento di ricchezza che l'amministrazione deve salvaguardare che non deve rivendicare come un dato come un dato di una secca su questo per quanto riguarda il piccolo contributo con il dato io ho cercato in questo anno di tutelare i diritti non mi sono mai chiesto quante persone mi sono rappresentate una persona o cento persone o mille persone i diritti quelli che ritenevo venissero trovati in alcuni casi ho trovato l'amministrazione disponibile in altri meno io però sono comunque per natura ottimista e fiducioso che le cose possano migliorare grazie che il disagio da cui si è fatto il riferimento prima si potrebbe riassumere forse così che dovevamo passare da Bologna io a Bologna noi c'è un po' la sensazione di essere passati a Bologna loro caduto il muro di dentro che c'era quel primo piano che separava la camera del sindaco dal resto è come se fosse vado su realtà un altro tipo di muro per cui si fa veramente patita a dialogare io non credo che la mancanza di dialogo sia il fatto che qualcuno sia ritirato anzi molti degli aspiranti dialoganti sono quelli che hanno sostenuto la campagna elettorale anzi diciamo pure che si sono rimboccate le maniche da molto prima quindi ci venisse annunciato qual era il nostro candidato sindaco quindi il disagio nasce da questo come rete unirsi della quale faccio parte speriamo di riuscire a superarlo appunto non con le amministrazioni ma creando delle occasioni di confronto di idee per sviluppare delle proposte che poi presenteremo all'amministrazione quindi nessuno ha intenzione di ripiegare su se stesso anzi direi che le cose di cui occuparsi non mancano si è accettato prima alla riforma dei quartieri anche questo è un impegno che al momento non trova nessun tipo di applicazione si è parlato giustamente di come riempire la parola partecipazione tra l'altro già a statuto vigente esiste per esempio lo strumento delle istruttorie pubbliche diciamo volendo la città può essere interpellata a essere coinvolta comunque prendendo la mobilità questo che sono state invitate come laboratorio in Bologna Polita allora c'è una novità buona che va sottolineata già stato detto è stata l'ascensione di Sirio anche questa però se mi sofferta perché dobbiamo aspettare settembre perché Sirio si accede su tutta la città comunque questa intanto funzione va bene ma rispetto all'amministrazione che avevamo prima dal punto di vista dell'infrastruttura e della comunità non è cambiato niente ossia ci sono dei ritocchi che sono quasi peggiori della situazione precedente il CIVIS per esempio che doveva essere in funzione quella specie quello che c'è stato contrabandato da Guazzalocca come il tram su gomma e da questo fa ridere no? si deve subito il tram su gomma e come dire non so è appunto il treno su gomma se mi dicono treno su gomma vedete subito un controllo tram su gomma è la stessa cosa in realtà è un negativo doveva andare da San Lazzaro a Corco Panigale con l'amministrazione Guazzalocca con l'amministrazione e adesso andrà da San Lazzaro al centro e poi torna il metro una minima proposta che mi ero permessa di fare all'assessore era che a meno si eliminasse questa lettura ottica perché la lettura ottica comporta che debba essere anche creata una soledità che sostiene tutto il percorso del tram del tram del finto tram del vero il virus ecco no anche questo quindi verranno conquistate queste vetture che costano molto di più di un filo il virus normale per avere questa lettura ottica che poi è una lettura ottica che ha un effetto alquanto ridicolo perché ha un raggio di riflessione sul terreno a tre metri per cui se è un gatto un cano una mente attraverso la strada un metro non la legge nemmeno però noi stiamo acquistando questa roba la stiamo acquistando adesso c'era un ricorso della provincia ancora aperto questo ricorso però a un certo punto si è chiuso via e via si prosegue con il civis che in realtà in civis è incivile come mezzo che ci verrà provinato col metro le cose non vanno meglio c'era un metro che andava dal parcheggio Michelino a Stadecco quindi in previsione probabilmente di interventi di speculazione di lista sulla collina adesso fa una svirgolata come arriva qui all'incrocio tra Dipendenza e Ugo Bassi e si butta verso ovest e resta sotto fino a oltreporta San Felice poi risbucca con una rampa di 400 metri che taglierà tutta via Saffi e poi arriva a Porto Panigale allora che bisogno c'era di farlo comunque partire dal parcheggio del Michelino vuol dire attirare l'automobile sul parcheggio quindi ancora anziché utilizzare il servizio ferroviario metropolitano per far girare i pendolari per far girare appunto quelli che da fuori Bologna vengono a Bologna o usare il treno noi lo facciamo arrivare in macchina alla fiera e poi da lì parte questa questa infrastruttura che tra l'altro ha dei costi imponenti sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dei tempi di realizzazione allora noi sappiamo che il nostro sindaco vuole lanciare questa nuova forma di rapporto territoriale culturale con Firenze e adesso spero che anche voi scoppiate in un'idea come sono scoppiata io quando l'ho letto questa è l'edizione di una pubblicazione dell'agenzia regionale per l'ambiente della Toscana che è un volantino pirata da stato 24 giugno dove si dà conto di una cosa che a me veramente ha fatto venire una grande invidia perché a Firenze realizzaranno e sarà pronto in circolazione al 2009 quindi parliamo solo di tra tre anni e mezzo un tram tutto su superficie questo tram verrà realizzato in Project Finance cosa vuol dire? che il comune caccia quasi niente come i quadrini avrà tre linee la prima linea gliela ha già finanziata allo Stato la seconda linea il primo lotto della terza linea verrà invece finanziato in Project Finance quindi è stato fatto un barco che è stato vinto da una delle imprese più grosse che appunto realizzano e gestiscono queste linee di trasporto precesi e quindi loro al 2009 avranno in funzione tre linee di tram per complessivi 19 km ma quello che più conta anche 41 fermate perché il grande vantaggio del tram rispetto al metro per gli utenti qual è? che le fermate sono più avvicinate normalmente per le metropolitane le distanze per il progetto di Quazzalocco sono 700 metri questo vuol dire che non sono dei sistemi sostitutivi vanno bene nelle città che appunto hanno dei raggi di 50 60 80 km ma in una città come Volote sinceramente poi hanno un svantaggio che è stato sotto non eliminano il traffico di superficie e quindi non contribuiscono a contenere il traffico mobilistico inquinante poi questo tram che ha tre linee che ha confermato 19 km costerà in tutto 487 miliardi questi sarebbero gli esempi che avremmo voluto che anche l'amministrazione di Bologna copiasse da Firenze le altre cose che speriamo vengano messe in campo sono una politica autentica al sostegno della bicicletta le zone 30 le zone 30 per esempio dei moderati sono stati realizzati degli interventi che hanno garantito una maggiore sicurezza quindi stiamo parlando di cose che si possono fare vorremmo che la sicurezza stradale anche con l'amministrazione di Bologna diventasse una verità ultima cosa c'era stato promesso tra le tante cose l'assessorato alla pace non se ne è più saputo niente intanto partendo la guerra è mirata a proposito di chi diceva prima che dopo tutto si debba risolvere con gli assessorati vediamoci non è la complificazione in fondo le giunte precedenti sono stati piedi con gli assessori io credo che non sia questo non è questo dei numeri in questione delle deleghe della distribuzione delle deleghe della volvedenza insomma chiamiamole cose di loro nomi non ascoltiamoci dietro dei numeri che non convincono nessuno però l'assessorato alla pace poteva essere un segnale un segnale che appunto questa città a differenza dell'amministrazione precedente che ricorderete legata all'amministrazione per la pace cosa che non era mai successa nella storia di Bologna Bologna medaglia dollaro all'esistenza con il suo confalone c'era sempre adesso è una questione della mancanza ma si è stata la pace però anche qui c'è un'assenza di proposizioni c'è un'assenza di iniziative prima si diceva Bologna che potrebbe offrire un'occasione di educazione di formazione ai giovani che vengono a studiare qui questo è stato così come è stata maestra di amministrazione pubblica noi eravamo una città dalla quale venivano a imparare adesso siamo noi che dobbiamo imparare dobbiamo imparare da Roma come ha fatto i municipi autonomi con l'elezione diretta appunto di quelli che sono diciamo i rappresentanti dei nostri presidenti di quartiere e sono necessitaci di municipalità cioè Roma ha delle dimensioni diverse però ecco è abbastanza triste vedere che questo scatto che ci aspettavamo non c'è ancora stato abbiamo ancora quattro anni speriamo che ci sia e che appunto il muro si avvasse un pochino guardate che persino Vito gli ha fatto un elemento la ghecche del suo ultimo spettacolo infatti si vede il protagonista che dice oh Coffero scrive a Coffero Coffero mi hanno detto che per potermi parlare bisogna prendersi almeno tre mesi prima ecco se i tempi di perfruttazione si accorciassero forse si instaureranno un rapporto diverso con la città e direi che c'è bisogno applausi 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 vista l'ora cercando sono veramente breve, sono arrivato a pubblicarti perché oggi con i 6 anni, 4 e 9, 1999, figlio e ora pronuncerò una parola che mi sono costretto a non pronunciare da circa un anno, partecipazione non rilievo dopo un anno, mi sono autocensurato perché già un anno fa io ebbi la percezione chiara che questa parola era presa in mano, probabilmente, per essere utilizzata ma poi subito abbandonata. 6 anni dal 4 luglio 1999, allora avevamo perso l'elezione a Bologna e probabilmente anche per la lascia del mio figlio e il mio periodo di riflessione che mi portò a pensare che in quei 4 o 5 anni si doveva cercare di ricostruire il contatto fra coloro che si proponevano di governare la città e i cittadini. Partecipazione usata come elemento di bypass rispetto al merito delle situazioni, come elemento di maschera rispetto ai problemi forti che a Bologna si sono, c'erano e perdurano. Bologna non si governa solo dal palazzo d'Occursio, non era così negli anni 90, non è così ora ed è qui secondo me il tema fondamentale, non è un problema di questo sindaco e di questa giunta. Mi pare che il problema più complessivo è che è un anno che noi abbiamo la politica parcheggiata a Bologna. È un anno in cui le forze politiche che ho visto impegnate fortissimamente nell'ultimo anno, ma molto in campo per cercare di ricostruire un rapporto con la cittadinanza negli anni precedenti raggiunto questa locca. Nel momento che Cofferati, andando alla fine della città, hanno parcheggiato con diverse responsabilità a seconda della forza. Però questo mi pare è un problema fondamentale. Non può essere una città complessa come Bologna, governata solo dal palazzo d'Occursio, come vedo. C'è un tema fondamentale di che costo ci sta in mezzo. Si diceva l'altra sera all'assemblea di Mirsi, molti lo dicevano, non è che sia così normale che i cittadini partecipino, no? Ma quando c'è un movimento complessivo di gente che comincia a interessarsi delle questioni, del merito, a mettere tutto il loro tempo libero, stare un po' fuori di casa e impegnarsi sulle cose, non si può pensare di usare questo come una clava solo in campagna elettorativa. Questo deve essere una risorsa da usare per l'opposizione quando ti trovi all'opposizione, ma anche per governare meglio quando si serve. E non è un problema solo di chi è stato eletto, è un problema delle forze politiche, se no sono solo comitati elettorali. Questo mi pare il tema fondamentale. Allora, un anno dalle elezioni, mi pare che la rivoluzione forte sia soprattutto questa. Cosa? Le forze politiche, e forse le, diciamo, tre forze politiche che hanno costituito, a partire dal Consiglio Comunale, una sinergia su alcuni temi di merito, possono cominciare a dare un esempio di questa direzione. Devono esserci, non solamente in vista delle primarie di ottobre, per Prodi, no? Se ci saranno e se saranno primarie, non solamente in vista del prossimo appuntamento elettorale nazionale e come ci sarà e con quali forze, con quelle creazioni all'interno del centro-sinistra. Ma devono tutti i giorni confrontarsi col merito. Quanti anni ho sentito parlare di dissuasori, di abbattimento delle barriere pettoniche, di tramvia, di infacimento di una stazione, di chiusura della cesura tra la Bologna e il centro-storico. Non mi pare che il problema in questo momento sia il merito delle questioni. Mi pare che il problema sia in che cosa è stato usato in questa campagna elettorale, solo a livello strumentale, e che invece dovrebbe essere il cardine del governo della città, ma anche quando ti mandano dell'opposizione della città. Siamo arrivati alla fine. Brevemente una questione, perché naturalmente siamo tutti stanchi. Io riflettevo da solo quali erano le motivazioni che ci avevano portato l'anno scorso ad una grande partecipazione e ad una grande campagna elettorale che da anni non si vedeva nella nostra città. Non era solo la società civile, anche se le organizzazioni politiche sono state in parte trascinate dalla volontà popolare, che naturalmente aveva come centro la sconfitta di Guazzarocca e Cofferati Sindaco. Naturalmente aveva dentro anche i problemi della risoluzione delle varie questioni, molte delle quali abbiamo sentito anche illustrati questa sera. Però io credo che ci fosse qualcosina in più. In quel periodo probabilmente si parlava di una nuova esperienza politica. Diciamo le battute del resto dagli ultimi periodi dell'esperienza dell'Ulivo non c'erano. Anche lo stesso l'ufferato veniva proposto, diciamo, un soggetto che cercava di interpretare che cosa? Una volontà vera di cambiamento del sistema politico. Anche la nostra voglia di partecipare all'armenso di tanto, credo, collegata al fatto che noi dobbiamo risolvere i problemi che pure ci interessano. Io credo che in quella campagna elettorale ed anche oggi al fondo di tutto ci sia un sentimento profondo che siamo un po' tutti stanchi di una modalità del funzionamento della vita pubblica, che vogliamo tutti un po' che la politica sia riavvicini un po' più ai cittadini, che vogliamo che questa politica sia fondata su programmi che si riavvicini l'etica alla politica e quindi da questo punto di vista, diciamo, c'è stata una grande voglia di grande partecipazione. Noi adesso abbiamo il terzo tempo, come si può dire, perché abbiamo fatto le elezioni comunali, abbiamo fatto le regionali, ci saranno le politiche e anche qua per non essere dei comitati elettorali probabilmente questo spirito bisogna recuperare, non deve essere uno spirito che finisce quando qualcuno è eletto, ma bisogna che questo diventi, diciamo, strutturale nella formazione dei quadri dirigenti, di estremi in particolare, nelle attività delle amministrazioni, nelle elezioni dei sindaci, alcune proposte sono state fatte anche qua per quanto riguarda la selezione della classe dirigente, le primarie, una modalità diversa e quindi naturalmente quello spirito è da recuperare, è chiaro che, insomma, tutti noi sappiamo che dopo delle grandi delusioni le parole non riescono poi a superare i parli concreti. Però io penso che questa sia la nostra volontà, la volontà di quelli che hanno addirittura a questa iniziativa, all'aggregazione che si è costituita al Consiglio Comunale, ad unirsi alle associazioni che partecipano al tavolo della pace. Spero che questa, diciamo, questa aggregazione che si costituisce riesca ad alzare anche lo sguardo per le questioni, in particolare quelle internazionali, in qualche maniera possa anche ottenere un obiettivo forte, fondamentale, che è quello appunto della modifica del sistema politico del nostro paese. Io ringrazio, ringrazio infine anche una rappresentanza della lista Rego che è presente ai nostri lavori, ringrazio anche i Consigli Comunali che naturalmente qualificano la nostra attività. Ringrazio e ci rivedremo dopo le feste per continuare la nostra discussione. Grazie a tutti.